buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qua su gaming galaxy come avevo promesso ho incominciato a fare video un po' meno di quelli che facevo prima ma cercheranno di essere un po' migliori di quelli che erano prima e quindi andiamo a fare video della settimana o spero uno dei due della settimana adesso vediamo il tempo che ho visto che ho finito le ferie e sto rincominciando anche a lavorare ebbene è uscita finalmente la roadmap in realtà è uscita qualche giorno fa infatti il 17 ma io ero con il mio caro compagno Slade a Milano a Girona voglio vagarlo e a fargliela vedere Milano non è qualcos'altro comunque è uscito il 17 la roadmap se per caso qualcuno se l'è persa se per caso qualcuno non l'ha vista beh andiamo un attimo ad analizzare assieme la post 1.0 e gli update della 1.0 che però sono stati fatti il 27 di agosto e quindi ci sono già tutti e praticamente sono quasi tutti stati uploadati beh andiamo a vedere in realtà quello che sarà il dopo 1.0 e che cambierà devo dire particolarmente se verranno veramente effettuati tutti questi cambiamenti il gioco iniziamo ad andare a vedere quello che sarà in realtà i cambiamenti all'interno del game quindi la customizzazione del personaggio che non so quanto possa essere utile o una roba del genere ma avere la possibilità magari di inserire sbloccandole o qualsiasi altra cosa una possibile kappa un poncio o comunque qualcosa che possiamo rendere unico il nostro cacciatore è sempre ben accetto quindi io premetto che questa cosa qua non mi dispiace la ritengo più o meno inutile ma so che ha molti interesse e quindi può essere una cosa carina da inserire salto questa perché ci torno dopo le ammo customizzabili quindi questa potrebbe essere invece un'ottima feature da metterci all'interno di hand showdown quindi la possibilità di avere diciamo un crafting o comunque una modifica alle armi o direttamente alle ammo quindi renderle molto più performanti questa ovviamente modifica deve essere inserita però solo ed esclusivamente se va inserito anche un cambiamento dello shooting range quindi della distanza di shoot dei vari colpi perché attualmente non esiste non esiste neanche la cadenza del proiettile di conseguenza io posso sparare con una naganta a 100 metri di distanza quando in teoria non dovrebbe farne 30 e posso sparare con un mosi a 800 metri di distanza perché tanto il proiettile prima o poi gli arriva è 18 quindi sicuramente deve essere aggiustato quello che è lo shooting e che in teoria dovevano già aver fatto nella 1.0 ma che ovviamente non funziona e si spera che con una aggiunta della possibilità di modificare le proprie ammo si riesca a fare e riescano a inserire questa bellissima opzione l'hardcore mod invece non so che cosa possono mai inserire nell'hardcore mod l'unica cosa che mi viene in mente da poter inserire come hardcore mod è il fatto che i boss e tutti gli zombie siano tremendamente più difficili da uccidere e che magari abbiano un livello di ingaggio molto 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 superiore quindi se io passo a una distanza tale attualmente di fianco uno zombie senza farmi sgamare in quel caso nell'hardcore mod lo zombie mi sgama a 100 metri di distanza e corre 10 volte più veloce e per ucciderlo non basta un colpo in testa ma ne servono almeno 3 l'unica cosa che mi viene in mente nell'hardcore mod è quella non credo che possa essere una cosa diversa a meno che non aggiungono una una aggiungono il doppio dei player in campo o possano aggiungere una sezione pve solo ed esclusivamente pve con gli zombie che sembreranno praticamente tutti i boss vedremo vedremo che cosa si inventano stavolta perché questa proprio non posso immaginare neanche io veramente come possano mettere giù un hardcore mod quello che ed è stato richiesto praticamente fin dall'inizio e che ho mandato un messaggio prima a Slade e se lo leggerà inizierà a saltellare come un deficiente è il dual wielding quindi la doppia pistola in mano probabilmente lo potranno inserire come tratto perché di sicuro non si potrà mai partire con la doppia pistola però come tratto sicuramente si e ho paura sinceramente io a leggere questa cosa ho paura per un semplice motivo avere il dual wielding con magari il fanning con pistole come la chain vuol dire veramente andare in giro con 8 milioni di proiettili a sparare come un deficiente tanto sono una macchina della morte considerando che continuo a sparare proiettili che non finiranno mai non so veramente come prendere questo dual wielding spero lo inseriscano in maniera tale che si possa usare solo con determinate pistole e solo con con tipo spendendo almeno 15 punti per i tratti per prenderlo perché sennò diventa veramente il gioco del dual wielding e rovinerebbe tutto quindi vedremo anche questo come lo vorranno inserire sicuramente faranno qualche live e andrà prima sul test server se lo inseriranno in breve entro breve ma vedremo 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 game mode come ho detto prima sempre per le armo lo shooting range che è una richiesta tra l'altro della community perché attualmente c'è c'è nell'estate delle armi ma non c'è realmente nel gioco e di conseguenza sarebbe bello inserirlo perché renderebbe il gioco molto molto più bello e soprattutto renderebbe anche meno inutile doversi comprare delle armi che sparano a 200 metri di distanza e al posto di armi che costano 14 dollari e sparano a 20 metri in teoria e invece sparano anche loro a 200 metri quindi questa cosa sicuramente secondo me è la principale da andare a inserire nel dopo 1.0 e vedremo anche questa quando la vorranno introdurre ovviamente ci sarà un implemento del lui va beh sti gran cazzi nuove armi nuovi tool nuovi tratti nuove leggendari weapon e il crafting ecco questa è una cosa che in teoria dovevano inserire già parecchio tempo fa se andate a vedere i miei vecchi video avevo fatto i video sulla roadmap in cui andavo a spiegare che c'era il crafting era già stato annunciato il crafting con la possibilità di modificare perfino le armi quindi rendere le armi proprio personali speriamo che il crafting possa essere inserito come ovviamente sarà una parte pve in cui non solo bisognerà andare a caccia degli hunter ma bisognerà anche farmare le varie zone magari uccidendo gli zombie e prendendo da loro dei pezzi per modificare le armi per fare in realtà un po' quello che si vuole comprensivo la modifica delle ammo il crafting secondo me è un'aggiunta molto bella per questo gioco perché lo renderebbe tremendamente più completo e speriamo che lo inseriscano in fretta questo io sono veramente felice che l'abbiano inserito nella roadmap nuova e che speriamo arrivi il prima possibile anzi spero che arrivi il prima possibile ovviamente qui aumentano le leggendari arter nuovi grunt variation high improvement hunter variation vabbè solite cose del casting in cui ampli il gioco andando ad inserire cose nuove ma che in realtà esistono già sono soltanto variazioni di quello che già abbiamo la progressione vogliono inserire nuovi libri e nuove challenge che vabbè è quello ok già i libri delle armi sono un'ottima cosa quindi devo dire che è molto divertente da giocare più che altro perché devi puntare su quello che vuoi e non tanto continuare a salire di livello quindi è una cosa abbastanza carina devo dire per quanto riguarda l'audio chiaramente chiaramente deve essere inserito e deve essere costantemente aggiornato l'audio di Anxodan perché è fondamentale e ultimo ma non ultimo e credo che sia la cosa che tutti stiamo aspettando le custom lobby la Japanese localization ce ne sbattiamo altamente le palle noi italiani ma le custom lobby invece le chiediamo da sempre e finalmente sono state inserite ovviamente una community request la community le chiede da sempre perché a parere mio e anche della community in realtà questo è un gioco che si presta particolarmente bene per fare dei bei tornei dei bei torneini ovviamente senza richiedere fondi ingenti o premi assurdi ma i torneini con le varie community che si sono create che hanno portato comunque nuovi giocatori e hanno un diciamo chiamarsi zoccolo duro dei giocatori sarebbe una bellissima cosa e lo stiamo aspettando molto 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 moltissimo che venga inserito quindi dai aspettiamo anche le custom lobby diciamo che questa roadmap ha dei belli spunti ha bellissimi spunti anzi e speriamo che venga fatta il più presto possibile che la Crytek si dia una cazzosissima mossa quindi aspettiamo e vediamo con questo beh la roadmap in realtà è finita fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto di quei due o tre punti che ho discusso un po' di più quindi dual wielding la shooting range per quanto riguarda anche il crafting la creazione delle ammo personalizzate e noi ci vediamo con la prossima news magari una delle loro live in cui vanno ad inserire qualcosa nel test server e niente GG a tutti quanti che 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 Grazie a tutti